Si svolgerà domani presso la sede della regione Abruzzo a Pescara il tanto atteso incontro per discutere della situazione dell'ATR di Colonnella. Un incontro fortemente voluto dai sindacati per fare chiarezza sulla complicata situazione finanziaria e le voci sempre più insistenti di possibili investitori interessati all'acquisto dell'azienda Terramana. Domani avremo un incontro in regione, un incontro diciamo sospirato, abbiamo messo parecchio tempo prima di ricevere la convocazione del tavolo scrivendo più volte la regione cercando di svegliarla perché non si riusciva ad avere un tavolo regionale sulla situazione serie dell'ATR e finalmente siamo riusciti. Quindi domani ci sarà questo incontro con l'azienda, parti sindacali e le istituzioni per verificare la vendita dell'ATR a questo famigerato soggetto che si sta mostrando in questi giorni. Ovviamente voi chiedete chiarezza ma soprattutto garanzie per i lavoratori che sono ad oggi? Esatto, ad oggi sono circa 150, ricordiamo che c'è un forte esodo dei lavoratori dell'ATR che si stanno licenziando per giusta causa quindi si sta perdendo know-how ulteriore rispetto al passato perché senza stipendi da tre mesi le persone si licenziano per giusta causa quindi noi chiediamo alla regione che faccia da garante a questo futuro investitore che verrà e soprattutto che si impegni con un piano industriale credibile a rilanciare il sito di Martinsicuro dell'ATR anche perché il sito dell'ATR senza qualcuno che venga a mettere capitale fresco è destinato a chiudere. Domani incontro anche con chi dovrebbe acquisire l'ATR? Esatto, è fondamentale che ci sia questo famigerato di murro, noi ce lo spieghiamo che ci sia perché senza di lui al tavolo regionale non ha senso parlare con la vecchia proprietà come non ha senso imbastire un dialogo per il futuro dell'ATR quindi se non sarà al tavolo questo investitore noi ci alzeremo dal tavolo e andremo via.